Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. In un mondo sempre connesso, dove le vite si intrecciano attraverso i fili invisibili dei social, la scomparsa, anche breve, di una figura amata e seguita come Martina Colombari, non passa inosservata. La showgirl, icona di eleganza e simpatia, ha recentemente interrotto il suo flusso costante di aggiornamenti, lasciando i fan in attesa e preoccupazione. Il suo ritorno sui social non è stato con una foto o un aggiornamento leggero, ma con una notizia che ha toccato il cuore di molti, Martina è stata operata d'urgenza. L'ospitalità e la professionalità incontrate all'ospedale Ceccarini di Riccione, hanno trasformato un momento di paura in una testimonianza di gratitudine e forza. Martina, trovandosi in ospedale per una visita ai genitori, ha avuto la fortuna di essere già nel posto giusto nel momento del bisogno. La sua operazione d'urgenza all'addome, un evento improvviso che ha sfiorato la peritonite, è stata affrontata con coraggio e determinazione. Da quel letto d'ospedale, circondata dall'affetto dello staff medico e dalla vicinanza virtuale dei suoi follower, Martina ha condiviso la sua esperienza, offrendo parole di speranza e resilienza. Mi hanno curata, e mi hanno salvata. Adesso pian piano mi riprenderò. Queste parole non sono solo la promessa di una ripresa fisica, ma anche il simbolo di una forza interiore che ispira e commuove. Martina Colombari è pronta a tornare a casa, con la certezza di una convalescenza circondata dall'amore dei suoi cari, e il sostegno incondizionato dei suoi ammiratori. La sua storia è un promemoria della fragilità della vita, ma anche della sua incredibile capacità di superare le sfide, un messaggio che Martina condivide con generosità e autenticità. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.